Grazie Presidente, proprio oggi c'è stata una conferenza stampa qui in Campidoglio dove c'è stato un accordo tra Roma Capitale, Ama e Comieco per portare avanti un progetto specifico sul primo municipio che parte in questi giorni. Questo progetto si chiama Le strade del riciclo portano a Roma, ovviamente l'obiettivo di questo progetto è che l'idea e la sperimentazione che verrà effettuata in questi giorni nel primo municipio si possa estendere in tutta Roma, per cui su questo tema noi stiamo lavorando molto allacremente e dunque ci asteniamo. Grazie.